In bici sui luoghi della memoria erpina legati alla resistenza. La quinta B del liceo scientifico Mancini di Avellino ha guidato un percorso sociale tra le tappe della pedalata resistente di Carlo Iandolo. Per un giorno le strade del capoluogo si sono trasformate in un museo diffuso a cielo aperto. I ragazzi sono stati guidati dai docenti Gabriella Ferrantino, Leonardo Festa e Gilda Guerriero. La carovana di bici si è snodata tra via De Concilis, via Malta e il carcere Borbonico e il corso Vittorio Emanuele. Questo momento ha voluto concludere un PCTO voluto dal Mancini con grande coraggio devo dire per ricordare da un lato la resistenza attraverso la pedalata resistente ideata nel 2020 da Carlo Iandolo e che chiunque può ripercorrere perché c'è un sito internet pedalata resistente che propone questo itinerario. Però al contempo abbiamo anche voluto lavorare sul tema della sostenibilità in maniera concreta mettendo i ragazzi in sella. È stata davvero una bella esperienza. La bicicletta, del resto, è un po' un simbolo di libertà. Loro sono stati dei bravissimi ciceroni che hanno raccontato ogni singola tappa e devo dire che hanno anche commentato poi che sono rimasti stupiti di scoprire tante piccole storie. Per esempio la storia del palazzo che è proprio a fianco al rosario che ha ancora dei buchi che sono in realtà memoria di un triste evento legato appunto a quegli anni.